Giorgio Varisi Revisi 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 Revis carattere eccezionale che è riuscita negli anni a creare intorno a sé un gruppo, una scuola, una vera e propria comunità di persone che collaborano con lui e che lo stimano profondamente. Io personalmente sono con orgoglio parte di questo gruppo da quasi 30 anni e quindi sono molto contento, onorato e orgoglioso di questa cosa. Ma l'affetto per Giorgio è stato veramente espresso in maniera fantastica dagli studenti del Dipartimento di Fisica della Sapienza quando è stato annunciato il premio Nobel e secondo me queste immagini raccontano molto della persona Giorgio Parisi tanto quanto i suoi lavori ci raccontano della generalità dell'aspetto scientifico del suo lavoro. Ma veniamo al tema della giornata e alla chiacchierata sui sistemi complessi e per prima cosa dobbiamo definire che cos'è un sistema complesso. Questa domanda fu posta, ricordo, a uno dei primi congressi dove andai sul tema e a tutti i partecipanti e quando leggemo le risposte ci rendiamo conto che erano tutte più o meno diverse ma tutte più o meno corrette. Quindi la stessa definizione di sistema complesso sembra non facile. Allora per incominciare a cercare di capire cosa sono realmente questi sistemi complessi. Forse è il caso di incominciare a citare Giorgio stesso che spesso dice tutti i sistemi sono semplici allo stesso modo ma ogni sistema complesso è complesso a modo suo. Oppure se vogliamo parafrasare la famosa espressione more is different del premio Nobel americano Phil Anderson potremmo dire in qualche modo che il tutto è più della somma delle singole parti e vedete che in questo concetto già interviene il fatto che le parti del sistema complesso devono interagire e la complessità del sistema non è tanto nelle singole parti ma nel modo in cui queste parti interagiscono e danno luogo a un fenomeno collettivo e interessante molto più ricco delle singole parti. Ma se vogliamo andare un pochino più nella definizione tecnica dobbiamo cercare di darne una anche se sia una metadefinizione e potremmo dire che un sistema complesso è un sistema che si manifesta a noi in molti stati diversi, stati macroscopici, osservabili, ok? E facciamo degli esempi per cercare di capire meglio questo concetto. Un qualsiasi essere vivente è fondamentalmente un sistema complesso. Se voi prendete un cane ad esempio lui chiaramente ci si presenta in molti stati diversi, corre, salta, riposa, mangia, abbaglia, ok? E in generale gli esseri viventi sono complessi a diversi livelli perché a loro volta sono formati da organi che sono complessi perché formati da tessuti di interazione e quelli a loro volta sono composti da macromolecole. Quindi vedete che la complessità si manifesta a diversi livelli e ad ogni livello un sistema complesso può essere complesso in modo diverso e di esempi di sistemi complessi ne abbiamo moltissimi. Ad esempio il nostro cervello è chiaramente un sistema complesso ma anche le reti neurali con le quali cerchiamo di modellizzarlo è un sistema complesso e più in generale possiamo dire che quasi tutte le reti di interazione tra esseri viventi possono essere complesse. Pensate ad esempio ad un sistema ecologico o a una rete sociale o a un mercato finanziario o un sistema economico. Sono tutti sistemi nei quali è l'interazione tra gli individui che genera il comportamento complesso e spesso questa interazione è anche in competizione. Questo fa sì che il sistema sia frustrato, cioè non esiste una configurazione in cui sono tutti contenti e questa frustrazione, questa complessione fa sì che la dinamica del sistema sia molto ricca e a volte può avere anche delle fluttuazioni enormi producendo degli eventi estremi che se si producono su grande scala noi chiamiamo eventi catastrofici. Quindi capite bene che studiare questi sistemi non è solo un interesse della scienza ma è anche un interesse delle applicazioni. Questi sistemi si manifestano a tutte le scale. Possiamo andare dalla scala planetaria, pensate al sistema climatico terrestre, fino alla scala microscopica. In basso vorrei rappresentare quei sistemi magnetici che si chiamano vetri di spin sui quali Giorgio Parisi ha sviluppato 40 anni fa la sua teoria, ve ne parlerò più in dettaglio dopo. Tuttavia per andare un pochino più nel concreto dobbiamo concentrarci sul mondo inanimato perché le regole, le leggi di natura che regolano il mondo inanimato sono molto più semplici di quelle che regolano l'interazione tra gli esseri viventi. Quindi passando al mondo inanimato in realtà di esempi di sistemi semplici ne abbiamo tantissimi. Se prendete un pezzo di granito quello vive in un unico stato tutta la vita. Ma anche altri sistemi che cambiano stato, pensate ad esempio all'acqua che può esistere nello stato solido, il ghiaccio, lo stato liquido e lo stato gassoso, il vapore acqueo, semplicemente cambiando la temperatura esterna, ha comunque solo tre stati che sono relativamente pochi. Tuttavia voglio prendere proprio l'esempio dei solidi per mostrarvi la differenza tra un sistema semplice e un sistema complesso. Allora un solido è una struttura in cui gli atomi, le molecole della sostanza si organizzano in una struttura estremamente regolare, tipo questa qua. Una volta che voi studiate questo che si chiama stato cristallino, ordinamento cristallino, di un solido e lo imparate, fondamentalmente avete capito la struttura di tutti i solidi di quella categoria, di quella natura, perché l'ordinamento cristallino è sempre lo stesso. Quindi in qualche maniera questo è un sistema semplice, ne studio uno e li ho capiti tutti. Immaginate per fare un parallelo, un esperimento che potreste fare in casa, di voler mettere dentro una scatola dei cubetti di legno. Il modo in cui mettete i cubetti è più o meno unico, avete un solo ordinamento, se li mettete a posto una seconda, una terza volta, li mettete a posto sempre nella stessa configurazione, perché il modo di mettere i cubetti dentro una scatola è unico. Ora provate a fare l'esperimento invece con delle palline. Volete mettere delle palline di legno dentro una scatola, ma chiaramente non vi mettete a impilarle come se impilavano le palle di cannone, perché sarebbe inutilmente complicato. Quello che fate è buttare le palline nella scatola, le agitate forte, fino a che le palline si addensano e ottenete uno stato del genere, che noi chiamiamo stato vetroso. Perché lo chiamiamo stato vetroso? Perché fondamentalmente è molto simile a quello stato in cui si mettono le molecole che formano i vetri delle finestre. È solido, se voi chiudete la scatola, dopo l'avete ben compattata, potete sedere sopra, ma l'ordinamento delle palline non è un ordinamento regolare come quello del cristallo. Sono chiaramente in posizioni apparentemente casuali. E questo è esattamente, se andate a vedere i vetri delle finestre, la struttura delle molecole che formano il vetro della finestra. Si chiama uno stato amorfo, cioè non hanno un ordinamento preciso. Ok? Allora, giusto per farvi capire con un singolo esempio quanto è potente la teoria di Giorgio Perisi, voi prendete una di queste configurazioni di palline e vi domandate ma sappiamo dire qualcosa su come è fatta questa configurazione? In particolare voi potreste misurare due cose in modo molto semplice. La forza tra le palline, qui c'è una sola forza, la forza di contatto. Le palline che si toccano, si toccano con una certa forza. E poi potreste misurare lo spazio che rimane tra le palline che non si stanno toccando. Queste due quantità sono molto facili da misurare, noi le abbiamo fatto nelle simulazioni numeriche e quelli sono i dati colorati li abbiamo misurati e la linea rossa è la previsione della teoria di Parisi. Capite bene che questa teoria riesce a descrivere perfettamente lo stato vetroso, quindi questo è quello che noi fisici chiamiamo capire un sistema. Se io riesco con dei conti a riprodurre esattamente quello che fa il sistema, l'ho capito. Allora la domanda è come fa la teoria di Parisi a capire queste cose con questo dettaglio? L'idea che c'è dietro è la seguente. Voi immaginate di generare molte configurazioni vetrose, cioè buttate le palline dentro la scatola due, tre, quattro volte e ogni volta le palline hanno una configurazione diversa. D'accordo? Allora l'idea è che dietro queste configurazioni c'è un ordine, ma noi non lo state riuscendo a vedere se guardate una sola configurazione. Tuttavia se guardate due configurazioni e quelle due configurazioni condividono un ordine nascosto, forse riuscireste a estrarre questo ordine nascosto. Con le palline è molto difficile farvelo vedere e allora userò come esempio per farvi vedere come estrarre l'ordine nascosto proprio il sistema dei vetri di spin, quelli che studiò Giorgio Parisi negli anni 80 del secolo scorso e che noi continuiamo a studiare perché continua a essere un sistema molto interessante. Voi avete una struttura, diciamo avete tanti atomi, ogni atomo ha un momento magnetico che qui rappresenta una piccola calamita, immaginate tante piccole calamite e queste piccole calamite interagiscono, perché l'interazione è sempre fondamentale, tra primi vicini. Se sono collegate da una lineetta continua vorrebbero avere lo stesso allineamento, se sono collegate da una lineetta tratteggiata vorrebbero avere allineamenti opposti, ok? Queste sono le semplici regole del sistema, lasciate che il sistema trovi la configurazione che lui ritiene ottimale e poi la guardate in faccia, qui è molto piccolo e qui vi sto facendo vedere due configurazioni di questo sistema però un po' più di variabili, ok? Vedete che sono apparentemente disordinate ma ora voglio vedere se riesco a imparare qualcosa da queste due configurazioni che nel gergo chiamiamo repliche, sono copie, però le chiamiamo repliche, infatti la teoria di Giorgio Parisica ma è anche teoria delle repliche. Prendo queste due configurazioni dello stesso sistema apparentemente disordinate e le sovrappongo e quello che ottengo è questa cosa qua, nella sovrapposizione emergono delle isole, rosse e blu, che vi stanno dicendo le due configurazioni erano molto simili, a limite identiche, ma voi non vi rendete conto. Quindi questa in qualche maniera è il modo più chiaro per far emergere l'ordine da una configurazione apparentemente disordinata e questo lo possiamo fare grazie alla teoria che ha sviluppato Giorgio Parisi che ci dice fondamentalmente come andare a cercare quest'ordine. Questa teoria è chiaramente una teoria di base che è stata poi applicata in moltissimi campi negli ultimi 40 anni e tra questi c'è il campo del machine learning. Allora quello che vorrei fare ora è cercare di convincervi che alcuni problemi che si sviluppano in questo campo del machine learning possono effettivamente essere trattati con la teoria di Parisi. Quindi quello che vorrei convincervi è che anche alcuni sistemi che si usano nel machine learning sono dei sistemi complessi. E concentriamoci per ora su questa struttura matematica che si chiama rete neurale artificiale, che è una di quelle alla base dei processi di machine learning. In particolare tutti quegli algoritmi che usate correntemente sugli smartphone di riconoscimento vocale, riconoscimento di immagini o anche chat GPT, sono tutti basati su reti neurali artificiali di questo tipo. Ovviamente molto più grandi di questa qua, questa però è piccola giusto per motivi illustrativi. Allora come funziona una di queste reti? Immaginiamo che vogliamo usare una di queste reti per classificare immagini, vogliamo classificare e riconoscere immagini di cane da immagini di gatto. Quindi quello che facciamo è noi presentiamo un'immagine sul lato sinistro della rete, quello che si chiama l'input layer, quello verde. Gli presentiamo l'immagine e in modo molto simile a quello che avviene nel nostro cervello quando un'immagine si focalizza sulla nostra retina e dei segnali elettrici vengono mandati alla corteccia visiva, il primo layer, quello di input, manda dei segnali tramite le interazioni che sono le lineette al primo layer nascosto di neuroni, i quali a loro volta tramite le lineette passano i segnali al secondo layer nascosto e così via fino ai neuroni rossi in fondo a destra. Quelli sono i neuroni di output che si accendono se l'immagine corrisponde a quella di un cane o a quello di un gatto. Sembra molto semplice ma per farla funzionare voi dovete allenare questa rete a fare questo task, questo compito e per farlo dovete assegnare correttamente tutti i valori dei parametri interni della rete. Immaginate che avete un parametro per ogni lineetta, questa è una rete piccola, le reti reali che si usano hanno milioni o anche miliardi di parametri che devono essere assegnati correttamente per funzionare come devono. Allora, quando andate ad allenare correttamente la rete e ottenete la configurazione che sta funzionando bene, cioè riconosce effettivamente immagini di cane e immagini di gatto, se guardate in faccia la rete, guardate i parametri, non vedete nessun ordinamento apparente, eppure un ordinamento nascosto c'è perché la rete sta funzionando bene, sta svolgendo bene il suo compito. Quindi questa è già una prima similitudine. Inoltre, se voi allenate una seconda rete da zero con altre immagini, ottenete una rete sostanzialmente diversa, tuttavia anche quella che sembra disordinata sembra diversa, continua a svolgere bene il suo compito, quindi in realtà un ordinamento sottostante c'è. Quindi vedete quante similitudini stanno tra le reti neurali artificiali che sono alla base del machine learning e un sistema complesso, assumono configurazioni apparentemente disordinate, apparentemente molto diverse, in pratica hanno un ordinamento sottostante molto importante. Questo è il motivo per cui la teoria di Giorgio Parisi può essere usata per studiare questi sistemi, alcuni sistemi in particolare, ed è uno dei modi con cui riusciamo a spiegare l'intelligenza artificiale, che è una delle linee di ricerca chiave in questo momento, perché che funziona ce ne rendiamo tutti conto, ma perché funziona è una domanda chiave, ok? Lasciatemi finire con un commento un pochino più tecnico. Uno potrebbe domandarsi, va bene, ma come fai ad assegnare questo miliardo di parametri affinché la cosa funzioni? Non sembra una cosa semplice, sembra una cosa senza speranza. In realtà è a parole abbastanza semplici, poi nella pratica sono un sacco di trucchi, e nella pratica voi definite una funzione che conta quanto la rete sbaglia, ok? Quindi per ogni data set di parametri voi sapete calcolare quanto la rete sbaglia, e cosa fate per allenarla? Minimizzate quella funzione. Se minimizzate l'errore che fa la rete, alla fine la rete funziona, perché non sbaglia più, ok? Quindi in pratica allenare una rete del genere con milioni o miliardi di parametri vuol dire prendere una funzione di milioni o miliardi di variabili e trovarne il minimo. Il problema è che questa funzione non è proprio liscia, è difficile rappresentarla perché vive in uno spazio di un milione di variabili, quindi non è facile, però se proprio la voleste rappresentare, la dovreste rappresentare con qualcosa del genere, un paesaggio molto corrugato in cui voi dovete trovare il minimo. Capite bene che non è un compito semplice. Allora in che cosa ci viene incontro la teoria di Parisi di nuovo? Di nuovo sfruttate le repliche, invece di prendere solo una pallina che cerca il minimo, buttate diverse palline, ognuna finisce in un minimo diverso, le chiamate repliche e incominciate a vedere quanto sono simili, quanto sono distanti, dove sono andate a finire. In pratica avete un metodo analitico molto ben sviluppato per capire le caratteristiche di questa funzione e quindi poter predire che cosa faranno gli algoritmi di machine learning quando gli direte ottimizza questa funzione complessa. Quindi in pratica è oggi uno degli strumenti più potenti che abbiamo per cercare di capire come funzioneranno gli algoritmi di machine learning quando li metteremo alla prova su problemi difficili e questo tutto grazie a una teoria iniziata 40 anni fa studiando dei sistemi magnetici disordinati che nella pratica hanno avuto pochissime applicazioni, ma quell'idea, visto che era un'idea geniale, ha aperto applicazioni in nuovi campi dove invece sta risultando estremamente utile. Questo grazie anche al fatto che la comunità intorno a Giorgio Parisi, qui vi elenco i più di 300 collaboratori che ha avuto, e una comunità ancora più ampia ha continuato a lavorare a questo metodo teoria delle repliche, la teoria di Giorgio Parisi, con grande passione. E quindi io spero che questa chiacchierata abbia potuto far conoscere soprattutto le nuove generazioni e abbia potuto un pochino affascinare le nuove generazioni come fui affascinato io nel lontano 1994 quando entrai in tesi con Giorgio Parisi e che siano le nuove generazioni a continuare a sviluppare questa teoria per renderla sempre più efficiente, più robusta e che possa portare a nuovi risultati da Nobel e quindi con questo vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie.